Quando eri piccola la tua mamma proteggeva la tua pelle con Fissan. Anche adesso che sei cresciuta la pelle ha bisogno di protezione. Ecco perché dai laboratori Fissan nasce Fissan Family, la linea di prodotti che grazie ai suoi ingredienti naturali e agli elementi essenziali restituisce alla tua pelle e a quella di chi ami la sua protezione naturale. Di generazione in generazione. Fissan Family, dove abita la protezione.